Benvenuti su Homewriting, oggi vediamo la differenza tra significato e significante sarà un video davvero molto 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 breve per esprimere quello che è un concetto altrettanto rapido quanto semplice andiamo molto spesso quando si sente la parola significante, significato, si storcia il naso perché si fa confusione non tanto per il significato quanto per il significante qual è la differenza, non è una parola che sentiamo spesso ebbene vi basti pensare al significante soltanto come la parola scritta, ciò che leggete, il suono della parola che viene letta quindi la parola in ogni sua forma che sia scritta o sia udita quella, la parola è il significante, il mezzo con cui si porta un significato che è un concetto, un'idea che si imprime nella mente di chi legge o di chi ascolta quindi una parola possiamo definirla come un insieme di significante e significato perché ciò che vediamo, il modo in cui si mostra è il significante ovviamente il significato è ciò che noi capiamo dopo aver letto quella parola possiamo fare milioni di esempi prendendo milioni di parole come riferimento cane ad esempio il significante sarà la parola cane o il suono cane in base a se questa parola viene udita o letta ok? abbiamo il significante il significato qual è invece? l'animale a cui si fa riferimento il cane è l'animale a cui tutti siamo abituati ormai e che vediamo almeno ogni giorno in giro che sia in tv o a spasso quindi nulla di più semplice, davvero qualcosa di facilissimo e rapidissimo che dirvi? ci vediamo al prossimo contenuto per qualsiasi cosa potete commentare sono sempre disponibili vi lasciamo da solito le mie referenze e lasciate un like e iscrivetevi al canale se vi fa piacere grazie ancora, ci vediamo al prossimo ciao